Antilorenzo Nato a Vicchio il 23.7.38 Presidente a Empoli, Piazza Gamucci 16 All'altra voce deve leggere Signora, dove andiamo? A voce alta Signora, a voce alta Sì Devo leggere prima, vieni Sì, deve leggere all'altra voce Non impedire che assuma l'altra voce Di fronte alla Corte e a tutti Attendi, un secondino Si può l'attendere, un secondino? Sì, sì Speriamo che sia sempre così attento Delle voce Consapevole della responsabilità Male Male? No, male non c'è Morale Morale Giudizia Morale E giudizia Che assume Assumo la mia deposizione Della mia deposizione Impegno a dire Tutta la volontà La verità La verità Volontà Ma problemi di lettura Non nascondere No, ma sì, sì Dipende Non nascondere Non nascondere Nulla di Di quanto è avvenuto No È a mia conoscenza A conoscenza Quale così Va bene Grazie Tom Si è impegnata A dire tutta la verità Di quelli che sanno Va bene Ora Saranno fatte le domande Le risposte Dica la verità Se non lo sa Dica non lo sa Presidente Forse è meglio Per Almeno io Chiedo Espressamente questo Il test Ha difficoltà Di lettura Visiva Di vista O ha difficoltà A leggere In italiano Possiamo chiedere Perché credo sia importante Aspetta Prima di questo Lo posso vedere Può essere pensato La telecamera O no È uguale Va bene Se io la domanda Pusera Lei ha difficoltà Di vista O Di A leggere e scrivere Un po' Quello e quell'altro Ma quello e quell'altro Ma ora Lei porta le lenti La sia importante Le lenti o no Sì Questi sono per Vedere da lontano No E tu Quella Allora Ci può leggere Se si vede da lontano Ci può leggere Ciò da vicino O si legge meglio Da vicino No Che ti si vede da lontano O si legge meglio Senza lente Se l'è mio Però Legge meglio Senza lente No Io ci vedo meno A leggere Allora Allora Tu hai capo Grazie La storia Grazie Presidente Signor Allegranti Mi era interrogato Da me Su Quello che avvenne Quello che aveva Constatato Nel giugno Dell'82 Il 19 giugno N giorni successivi E In particolare Quello che riguarda L'omicidio di Antonella Migliorini E Paolo Mainardi Io prima Volevo sapere Una cosa a lei Lei In seguito A certi fatti Che le avvennero Che poi ci racconterà Si è presentato Ai carabinieri Quali carabinieri Quelli di Montesperto Quante volte Si ricorda Ma io non mi ricordo Quante volte Ci sono andato Tante volte E Da primo Mi fecero firmare Un verbale E via Scorrendo E poi L'altra volta Quando io Avevo Un qualche cosa Che mi arrivava Una telefonata O per una cosa O per un'altra Sempre riferendosi Al nostro Io lo facevo presente E mi dicevano Sì Va bene Quando c'è qualche cosa L'altro Ricordavo Però io Non ho firmato Più niente Perfino A quando Gli è arrivato La condanna a morte Ecco Arriva la condanna a morte Ero a Rimini In ferie E Arrivò una telefonata Su l'ora Va bene Questo poi Se ne fai da dopo Va bene No Presidente Ci si arriva Senta Poi Lei è stato Intervistato Da un regista Della RAI Sì Per una trasmissione Si chiamava Dimix Senta In quell'occasione Quando lei Viene intervistato Da questo regista Della RAI Una trasmissione A cui partecipare Anch'io C'è adesso Organizzare Anch'io Io c'ero Non ricordo Questo Perché Io Le scelte Sì Io sono abbastanza Finosomista Ma C'era Tanti Insomma Non so No io Non c'ero Comunque Senta C'era Le grandi Poi è stato interrogato Al pubblico ministero Lei Da dottor Canessa No Almeno le ricordino Che sai Sono passati A che anno Va bene Senta Dunque Il 19 giugno Del 1982 19 giugno Lei prestava servizio Presso un'associazione Di volontari Sì Ero di servizio All'associazione Volontari Croce d'Oro Di Montespetto Croce d'Oro Di Montespetto Senta Era da molto tempo Che lei prestava servizio In questa associazione Dalla nascita Ed era nata Quando? Nell'80 Circa Era due anni E con lei Prestava servizio Altri giovani Dei giovani Sì Erano Dei ragazzi Che erano Con la firma Dei genitori Ma Non si ritenne Opportuno Di Mettere In voce Vabbè Insomma Era cifede Comunque Erano dei giovani Sì Molto giovani Sono 14 anni 15 14 14 15 14 15 15 Perché Mi ricordo 16 anni Potevano venire Senza la firma Erano La firma Dei genitori Dei genitori Molto bello E vi arrivò Una chiamata La sera Del 19 Giugno A questa associazione Croce d'oro Di Montespertoli Vi arrivò Una chiamata Sì Lei Saprebbe dirci Chi è che chiamava Io non l'ho ricevuta La chiamata Perché Nel momento Che arrivò La telefonata Io ero a mettere La macchina In garage Lei prestava servizio Come autista Dell'ambulanza Sì Avendo la patente Speciale D'autista D'ambulanza La patente Di tutti Gli autisti D'autista D'ambulanza Ho capito Ci può Si ricorda A che ora Arrivò Questa chiamata Più o meno Non c'è bisogno Di spaccare il minuto Ma insomma Grosso modo Verso le 11 e 20 L'11 e un quarto Sì Quindi Mi fa 10 minuti Vanno e vengono 23 15 23 20 Senta E vi ricaste Vi dissero Dove Dove fate andare Ovviamente E voi Di recaste Di a Baccaiano Sì Senta E quando Arrivaste voi Era già intervenuta La polizia Oppure no No Quindi foste i primi Ad arrivare Sì C'erano Altri tanti Passeggianti Fermi Dalle parti Ma C'erano Delle persone Sì Per caso Riconobbe mica Qualcuno Se erano persone Alle conosciute No No Va bene Che cosa Constatò Questo lo vediamo Nel momento successivo Ora Lei Mi dica una cosa Nei giorni successivi Lei parlò con dei giornalisti Sì Con chi Si ricorda? Con diversi giornalisti O con qualche giornalista soltanto? Diversi giornalisti Ora Che ricordi Così Mi pare Fosse stato un giornalista In La Nazione Uno di Di Repubblica Paese Sera Va bene Il Tirreno Mi pare Mi pare Oh Poi lei ricevette una telefonata Sì Ci vuol dire più o meno la data della prima telefonata che ricevette? La prima telefonata? A che distanza rispetto al fatto rispetto al funerale dei ragazzi? Insomma Ai funerali dei ragazzi poche ore A poche ore di distanza dal funerale dei ragazzi? Sì Lei ricevette una telefonata? La notte stessa Sì Ma che telefonate? Senti Ora glielo iedo Sono qui a posto Ci dice il tenore di questa telefonata Che cosa le disse questo qui che le telefonava? Chi era? Se era un uomo o se era una donna? E cosa le disse? Era un uomo Era un uomo E che disse che si deve stare attenti Perché era pronto per fare una strage Le disse anche dove era pronto per fare questa strage? Nella zona però dove? Senta Nei giorni precedenti a questa telefonata Lei per caso Aveva letto qualche notizia particolare Sul fatto, sull'avvenimento sui giornali? Non mi ricordo Realmente se per caso Il giornale avevano pubblicato Che il ragazzo era sempre vivo E che aveva parlato Mentre lo portavano Mentre veniva portato all'ospedale l'ambulanza No Non si ricorda Allora lei ricevette questa telefonata E cosa fece? Andò da Carabinieri? Sì E quindi lei andò da Carabinieri E Carabinieri verbalizzarono questo suo racconto Domandarono E messi a corti a scrivere E dopo Va bene E se dice Talora che devesse venire Qualche altra chiamata Dice Ce lo sa dire Va bene Ogni volta io Dice Guarda Mi chiede Guarda La telefonata Così Va bene Benissimo Senta Poi ricevete altre telefonate lei? Sì Quante altre telefonate? Beh Io tutte Non gliele posso raccontare Di certo Perché Non me le ricordo nemmeno Ma Più di una Sì Sì Mi ricordo alcune particolari E basta Ecco Ci dica una particolare di qualcuna Di queste telefonate Cosa le disse Era sempre la stessa persona O era una persona diversa? Sì Era sempre la stessa persona Che Era sempre le stesse persone Mi chiamava Spesso Di notte Verso le due La notte Sì E cosa diceva? Fuori Diceva sempre Le stesse cose Che gli era il mostro Una volta Si spacciò Per la magistratura Dice Per via che lui Non credeva Alla verbalizzazione Che era sottofirmata Non so Roba di genere E mi chiedeva Alle vanno Della sua verbalizzazione Sì Che Si dice Quindi Dice Siamo tutti Dice Qui in attesa Dice Perché Non crediamo C'è un po' Un po' Di Una certa spaccatura Dice Tra di noi E quindi Dice Si vuole Sentire Proprio la voce Dice Guardi Che Dove chiamarmi Lo sa Io per telefono Non gli lascio niente E però Lei si accorsa Era la stessa persona Sì Sì Senta Ma cosa voleva sapere Da lei Questo signore In particolare Io Penso Volesse Penso Non che me l'ha chiesto Che volesse sapere Se lui Mi ha detto Alcune cose Lui chi Paolo Paolo Ma è nato Il morto Paolo Ma è nato Senta Poi Lei Tu gli resti telefonato E riferia A la mia Queste ulteriori Telefonate Sì E poi Lei andò In vacanza Vedo Sì Dove andò A Rimini In che data Se lo ricorda Non fu Nell'82 Ma Nell'83 La data Non me lo ricordo Il giorno Che dire Che è arrivata La telefonata Quindi lei Andò in vacanza Nell'83 Non nell'82 L'anno dopo Anche nell'82 Ma nell'82 Non mi arrivò Niente Nella telefonata Nell'83 Che mi arrivò Questa telefonata Che Ero Dove si trovava Lei Io mi trovavo A Dossè Ora mi sfuggì Il nome Ma mi venne a mente Era poco Ci ho pazienza Con i incidenti E a volte Mi va via Dov'è la località A Rimini Eh A Rimini Ah sì Era a Rimini In via Firenze Allo Sede Mi è venuto In mente O Sede Benissimo E quindi S'eramo a mangiare La sera E Alle grandi Ci la chiamano A telefono Vabbè Io Ero Con la mia figlia Una figlia Con la mia figlia E sodomuta Mi venne dritto Mi venne dritto E andai in cabina Rispondendo E c'era lei Adesso mi sa piangere Capì subito In modo Con cui Che si parlava Ma mi disse Che era cosiddetto Il mostro di Firenze Che gli ero stato Condannato a morte E se sono stato Condannato a morte Non è solo Com'è Non è solo Il segno C'è anche Qualche di un altro Lei gli rispose così Sì E la voce Senta Era sempre la stessa Sì E lui Disse A quella In questa maniera E quindi Gli era arrivato La fine E basta E io gli dissi Ma Non si sa Per chi è Alla fine O per me O per lei Insomma Perché io Viaggio armato E disse Un'era mia Vero Sì Per non mi fare Intimorire E E Presi Andai Al comando Di Rimini E fece una denuncia Al comando Di Rimini Fece la denuncia E Poi fu scartato Dalla pulizia Portava a Rimini E poi Avevo sempre Questa persona Che quando andava Al mare Anche quando andavo Nell'acqua Quando Insomma Due o tre volte Che poi Il padrone Dell'hotel Che è venuto a cercarmi Per dire In una sala A bar Una volta Era andato a casa Del bagnino A vedere Le corsi Dell'atomobilismo E che Si vede Ma avevano perso E si rivolgivano A lui A dove Potevo Trovarne E lui E finiva Adostire Mi è venuto a trovare Io l'ho saputo Dopo alla fine Insomma Perché Insomma Questa persona Che di pochino Me la trovavo Di fronte Quando arrivai Alla fine Devevo Rispendire via E c'era degli amici Che andavano via Il giorno dopo Di chiese Se c'era posto Per rimanere Anch'io Un giorno in più E mi disse Poi potevo rimanere E quindi Rimani Rimasi Appena io E rimasi E mi arriva La telefonata Dai comando I rimini Perché io Non ho avvisato L'autorità E mi sarei Trattenuto Un giorno in più Va beh Ti rovano E E ci trovo Quelle persone Che sempre Quando andavo In pizzeria Che gli erano A guardare A mangiare la pizza Andavo a badare E mi trovavo Queste due persone A badare E scopri allora Che loro Gli erano sempre Indietro a me No Stato efficiente Eh Certo Signor Allegranti Lei poi Tornò a Firenze Vabbè Tornò a Casa sua Sì Torniamo a Montespetro Sì Perché stava a Montespetro Senta Quando Torniamo Al giorno in cui Lei Fece questo intervento Con Con Volevo chiedere una cosa Lei Conosceva Eh Di vista O per averlo sentito Pietro Pacciani Di vista L'avevo rivisto Ma così A distanza Io non ci avevo mai Nemme parlato Perché lei è nativo di Vizio Sì Perché se l'avevo conosciuto Come nominativo E l'avevo visto Una volta Perché Me l'aveva insegnato La mia sorella Era più grande Che gli era detto Pacciani Che gli ammazzò I bonini Ecco Quando ammazzò Questo Signore Dice lei Lei Stava a Vizio Alla Sì Il padiglione della scuola A dove ero io Questa voce Che lei sentì Al telefono Ce la può descrivere Com'era Nel senso L'accento Era fortemente Toscano Oppure Era una voce Educata Era una voce Con Un forte accento Veronacolistico Toscano Oppure Di un'altra regione No Non c'era Per mio conoscere Il può conoscere Non c'era Un dialetto Oppure Un sottofondo Toscano Era un italiano Un italiano Abbastanza curato Sì Lei ha sentito Alla televisione O da altre parti Parlare Pietro Pacciani Sì Come Tutti Come tutti Ed era Secondo lei Poteva essere Vicina Alla voce Di Pacciani A questa voce Lei sentiva Al telefono Oppure no No Ho detto No Ho detto Era lontanissima Io non so Era lontanissima A volte si può anche Tra cambiare Cambiare il tuono E la voce In modo di parlare Ma Ne è che ci stava tanto Quella al telefono Ma insomma Non era assolutamente Quella voce lì Poteva essere Uno sui Untorni Non lo so Loro Lui non era Presidente Al termine di questa deposizione Vi chiederò Che venga fatto Una specie di esperimento Giudiziale Chiesto al pubblico ministero Il quale si occorrà Però Dice Disposto A mettermi A disposizione Necessaria Tutti i mezzi Tecnici Necessari Chiede al signor Allegranti Di andare In quella stanza Là dietro Che c'è un telefono E' ascoltare A un telefonino La voce Del signor Bandi Signor Allegranti Torniamo a Moitu In cui lei Interviene Lì Alla macchina Questa macchina Era fuoristrada Si ricorda Che posizione Era Sto parlando Della macchina Dei due ragazzi Si era fuoristrada Era sui ciglioni Rimasta Quei sotto Che Con la rosa Nella fosse Quindi non girava Non toccava più Le rote interse Era finito Con una rosa Nel fossetto Lei Chi Estrasse Dalla macchina Lei si accorse Uno dei due Ragazzi Era sempre vivo Ma io Ho aperto La porta Non quella Della guida Quella Da parte Gli era l'Antonella E sono entrato Drento Si Sono accorto Che lei Insomma Era Senta Ma lei Era la autista Come mai Entrò lei Dentro Perché Entrai Drento Perché Quei bambini Quei bambini Che si devono chiamare Mi spariano In continuazione E erano Emozionatissimi E quindi Feci tutto Tutto da me Insomma Tutto da drento Mi accurai Così Da profano Che se era sempre vivo Il primo che trovai Che era Antonella Oppure se era morta Lei Costatai Nella mia Possibilità Rionoscendo Che era morta Allora Passai di là E c'era lui Che era Di dietro Sempre Si tende Cascato Mi ricordo Se era cascato Sulla parte Sinistra O sulla parte Destra Insomma Dalla parte In cui Dove Aveva L'arteria Sbaccata E quindi Serà tappato Io Quando l'ho rigirato Mi traschizzai Il sangue Quindi La preoccupazione Superiore Era subito Di tappare L'amorogia E poterlo Arrivare Al pronto soccorso Che lui Fosse vivo E se potessi Arrivare A una certa verità E lei Gli tappò Questa ferita? Tappai L'amorogia E si partì Mezzanotte 20 Mezzanotte 25 Mi pare Si fossi stati All'ospedale All'ospedale Lì In Policina Se non Le sgarro Nell'orario Lo tirò fuori Proprio lei Dalla macchina Si Dove si trovava? Su che sedine? Lo davanti O quello di dietro? Di dietro Di dietro Con le gambe Sotto il seggiorino Davanti E' sicuro Signore Di questo? Questo si è sicurissimo Se si volesse Fare Questo esperimento Presidente Io ho un'altra domanda Signore Allegranti Lei dovrà avere pazienza Un attimo Perché io ne ho tantissime E per fortuna Lei su questi fatti Ha già fatto dei verbali Io le dimostrerò All'epoca Che lei oggi Non si ricorda bene O non si ricordava bene Questi sono commenti E non vanno fatti A testimonio Perché Sembrebbe Io l'ho detto All'inizio Ho detto che è passato Oltre 15 anni E 5 mesi Quindi La verbalizzazione Deve prendere Quella che c'è Io ho detto Posso rischiare E anche di dire Una cosa Un pochino diversa A 15 anni fa Ma non perché E la voglia cambiare Senta una cosa Io vorrei partire Da questo Lei ricorda Di essere stato sentito Su questi fatti Dal PM Il giorno immediatamente Successivo Ai fatti E ancora Dai carabinieri Qualche tempo dopo E ci sono Negli atti Per fortuna I verbali di allora O questo non lo ricorda Il suo difensore Le l'ha già chiesto Lei ricorda Di essere venuto a Firenze Di essere stato sentito Dal PM Mi sembra Anzi Il giorno dopo La dottoressa Della Monica E poi successivamente Lei si è presentato Come ha detto Dai carabinieri E ci sono i verbali Io con la dottoressa Monica Ci ho parlato Però Ma a Firenze Ci ho parlato A Montespertoli Dunque Sì Ha ragione Era il 22 di giugno In Montespertoli Ha ragione È il verbale Sì È in Montespertoli Sarete stati Ora qui mi manca L'intestazione precisa Era il 22 Quindi due giorni Dopo il fatto E più che ci ha parlato Lei ha sottoscritto Un verbale Si ricorda Che fece dichiarazione Bene Poi dai carabinieri Si ricorda Di avere sottoscritto Di avere sottoscritto Un verbale No La Se se lo ricordo Io l'ho detto prima Io lo sento informato Se poi non l'hanno fatto loro No Io lo potevo Miare Ma C'è il verbale persino Di Rimini Quindi Bene Sento una cosa Signor Legranti Quindi lei è stato sentito Se lo ricorda I verbali ci sono Ora poi vedremo Cosa dicono Io ritengo buoni quelli Buoni quelli lì Si Capito Bene Perché si ricordava meglio Forse Sono buoni quelli Perché Sotto questo profilo Sono buoni quelli Perché era Più vicino al momento del fatto Perché Perché dice Ritengo buoni quelli Perché Ritengo buoni quelli Perché Purtroppo Nella vita Ci sono anche Giatte e bassi Di una persona Perché Io Nell'84 Ho ricevuto Anche un incidente E sono stato Otto giorni di coma E quindi Alcune cose Tutti le ricordi Poi dopo Sento tempo Così Anzi Per dirgli All'avvocato Per lo sé Che c'ero E mi è dovuto pensare E mi è venuto in mente A volte Mi riviene in mente Una cosa Il giorno dopo Ma all'hotel Eden di Rimini Lei lo disse subito Quindi c'è qua Il verbale Quindi Lo sapevamo Ci sono anche i giorni In cui è stato Lei all'hotel Eden Se l'ha detto Lei Andiamoci Andiamoci Un attimo Per ordine Io vorrei andare Nello stesso ordine In cui gli ha fatto L'avvocato Filastò Le domande Cioè Prima Queste telefonate Questi episodi E successivamente Cosa vide Al momento del fatto Andiamo al contrario Ma facciamo Esattamente Lo stesso Percorso Io Volevo sapere Questo Lei dice Con me Se non ho capito bene Con l'ambulanza C'erano altri giovani Della Croce d'Oro Lei era il più anziano Era l'autista Era il più anziano E c'erano dei giovani Ho capito male Problemi di firma I genitori Ecco Ma questi giovani Ci può dire Chi sono Oggi I nomi Si possono anche dire Gli erano stati assenti Come nominativo Anche nel servizio stesso Voglio dire Ecco Non furono trovati Perché non avevo In quel momento Che mi ritrovavo Non furono sentiti Perché i nomi Non furono fatti Perché erano troppo giovani E questo è il concetto Però lei Se li ricorda Chi era Volendo Ho capito E questi Ragazzi Quindi Non videro Cosa c'era Nella macchina O lo videro lo stesso Lo videro Benissimo Lo videro Trento non c'entrarono In macchina Ci sono stato in macchina Io e basta Non l'aiutò nessuno Dallo sportello di fuori Che gli passai le gambe A quell'altra Insomma Ecco In questo senso E più Però Belle Ma guardi Quelli a cui lei ha passato Le gambe Come dice lei Sono stati tutti sentiti Il giorno dopo Dalla dottoressa della Monica O i verbali io Quindi Non capisco questa Difficoltà Perché Insomma Ci vuol dire I giovani Che l'aiutarono Via Così facciamo prima I nomi I nomi Perché era un certo Ciappi Non mi ricordo Se si chiama Carlo Se si chiama Differente Ciappi Ciappi Il nome Me lo ricordo Sì che Quanti anni aveva All'epoca A me mi pare 14 anni Poi Se Se ne aveva 15 Non lo so Beh Il servizio Il servizio Ciappi Erano di 14 anni Ok Certo Martini Marco Bene Anche questo Aveva 14 anni Sì Eravate in tre Quindi Due di 14 anni E lei No Ce n'era un altro Si ricorda Come si chiama No Un terzo Non si chiama Ho capito Senta una cosa ancora Perché non era di Montespetri Perché non era di Montespetri Quindi non si ricorda lei Come si chiama C'era piovuto Sì C'era arrivato E poi era ritornato via Quindi non me lo posso ricordare Loro invece erano di Paese Sì Ho capito Senta una cosa Lei dice che fu ricevuta Una telefonata E questa telefonata Ho sentito ora Dice Arrivò verso le 23 e 15 23 e 20 È così? Perché lei su questo orario Ha già deposto All'epoca Quindi io le chiedo ora È sicuro O sa Esattamente Si ricorda Che ora fu ricevuta Questa telefonata E in secondo luogo Da chi fu ricevuta materialmente Corristo non lo so Io gli ho detto In grosso modo Circa più destora Poi In dieci minuti Ma ne vengono Dio io Sì certo Dunque Lei ricorda di Avere detto Chi ricevette la telefonata Ai carabinieri Chi rispose E che ore erano All'epoca Corretto Per essere Con esattezza Bisognerebbe Chiederlo Alla pubblica Assistenza Se è stato Registrato L'orario Della chiamata Come normalmente Viene registrato Ho capito Io Signor Presidente Poi fornirò Degli atti Da cui si Capisce esattamente Gli orari Faccio presente Che nel rapporto Giudiziario I carabinieri Dicono che Hanno avuto Notizia Dei fatti Alle 0 15 Del 20 Giugno Io vorrei Ora far presente A lei Signora Allegranti Che Quando fu sentito Dai carabinieri Perché si presentò Lei Disse esattamente Nel verbale Che ho qui E io le contesto Un verbale Questo del 18 Agosto Del 1984 Lei si presenta Ai carabinieri E dice Verso Le 24 Ricevevo Telefonicamente Una richiesta Di intervento Per una località Compresa tra Frazione Baccaiano E Fornacette Dice di averla Ricevuta Lei Ai carabinieri E che erano Le 24 Ci sarà stato Uno sbaglio Perché io Non l'ho ricevuta La telefonata Si presenta Si può chiedere Benissimo anche All'associazione Se io ho ricevuto La telefonata Questo lo dice Lei L'unico sbaglio Che fanno I carabinieri Che prendono Le sue dichiarazioni Lei non l'ha ricevuta Quindi Però Lei disse Io ho ricevuto La telefonata Perché quello Me l'ha comuni In questo senso Però lei dice Erano Verso le ore 24 Si ricorda Di aver detto Le 24 O è un errore Anche questo Errore Sono i carabinieri Di Rimini Quindi questi Non ne sanno Assolutamente nulla Si presenta Lei E dice Questo Io glielo contesto Che lei Carabinieri Di Rimini Il 18 agosto Del 94 Dice Verso le ore 24 Ma questa è la telefonata Che di cui parla Della cena A Rimini No 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 Lui si presenta A Rimini La telefonata A Rimini E tutta un'altra cosa Poi vediamo Lui si presenta A carabinieri Di Rimini E dice Nel 1982 Al momento dei fatti Lo leggiamo Dice Sono un autista Perché capisca la corte Il verbale La disposizione Dice Sono un autista volontario Del corpo pubblica assistenza Croce d'oro Di Montespertoli Ovviamente Deve spiegare a Rimini Cosa gli è successo Quindi evidentemente E il giorno 27-28 giugno Vabbè Qui sbaglia Ma 81-82 Non ricordo bene Quindi si presenta A Rimini Non si ricorda Se è rivenuto Nell'81-82 Non ricordo bene Durante il turno di servizio Verso le 24 Ricevevo telefonicamente Una richiesta Di intervento Per una località Compresa Eccetera Eccetera Si ricorda Di essersi presentato Lei carabinieri Ce l'ha detto prima No? A Rimini Sì Ma no Non potete confermare Questo è il verbale L'ha detto lei Che vuole carabinieri Rimini Scrivono quello Che lei le dice Dice questo Poi lei lo controlla Qui c'è la sua firma Lei si presenta Esattamente Alle 11.30 Ai carabinieri Di Rimini Attenzione Alle 11.30 Del 18 agosto Del 1984 Lei si presenta Tre anni dopo Ai carabinieri Di Rimini Non nell'82 Come avevo capito Nemmeno nell'83 Come ha detto lei stamani A me mi pareva Il 83 Può essere Votata Avato Io non le ho detto Che me le debba ricordare No? Beh Quindi lei va da carabinieri Rimini Perché non mi torna Il discorso anche Che io ci sia andato Il 18 Lo dice lei Addirittura lei A questi carabinieri Dice che Il fatto in cui Qui si riferisce Era avvenuto il 27 28 giugno Dell'81 O 82 Si figuri quanto poco Si ricordava Due anni dopo Si ricordava nemmeno Quando era avvenuto Questo suo intervento Per cui le chiedo io È sicuro delle 24 I carabinieri Dicono di aver avuto Notizia Alle 24 e 15 Lei dice alle 24 Oggi in aula Ha detto alle 23 e 25 Comunque È un 23 e 15 Per l'esertezza No no Prima io l'ho ricevuta Io l'ho telefonata L'ommunicazione Perché Bene A me vanno a chiamare Era un macchina Che la metteva a posto In garage E era prima di mezzanotte L'11 Che normalmente Io devo smontare Alle ore 12 Io devo smontare Alle ore 24 No E quindi era a mettina a posto E invece sono andato via E poi sono ritornato Oggi erano le 4 No beh Poi vediamo Perché ci sono quelli intervenuti Alcuni che dicono Erano montati a mezzanotte Alcuni della croce d'oro Quelli che sono intervenuti Quindi Sì 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 No no Ma c'erano eh C'erano eh Perché questi ragazzi Sì Ma l'autista non era arrivato Qualcuno deve andare Bene Allora gli altri Erano quelli montati a mezzanotte Vabbè Sull'orario abbiamo capito Com'è la faccenda Io Vorrei andare un attimo avanti Su questo fatto Invece Della Continuiamo il discorso Delle telefonate Che ha ricevuto lei Lei dice Ho ricevuto Una telefonata Ho sentito L'addettora La notte stessa Poche ore dopo il fatto Si ricorda Che ore L'hai ricevuta Mi pare Intorno alle 2 Un addetto è tornato alle 4 L'addettore Dice La notte stessa del funerale No dell'incidente Bene Bene Ho capito male io Che fu La sera ci fu Verso le 5 e mezzo Le 6 Ci fu il funerale Poi Ho capito male io Ho capito male io E ha detto il funerale chiaramente Benissimo Io mi sono scritto la notte stessa Ho capito male Ci sta Può dirci La notte stessa Quando andò dai carabinieri A me mi pare Di essere andato il giorno dopo O la sera dopo Poi ci può fare L'elenco Di tutte queste telefonate Nel tempo E quante se ne ricorda E quando è andato dai carabinieri Perché su questi fatti Lei per fortuna All'epoca ha fatto un verbale Ha detto Quando e quante ne aveva ricevute Quindi siamo tranquilli Che lei ha detto La verità l'ho detta allora Perché me la ricordavo meglio Poi io le leggo Però prima di leggerle Cosa ha detto Vogliamo vedere se se lo ricorda Lei Perché lei ci ha parlato In una telefonata La notte del funerale Poi una telefonata Quando era a Rimini Però lei ci ha detto Nell'83 Invece Lei a Rimini c'è stato Nell'84 Vabbè Ha sbagliato ad un anno Io volevo sapere Le telefonate nel mezzo Io a Rimini Ci sono sempre andato Voglio dire In 10 anni a fila E anche Nella solita pensione Bene Io se gliel'era un anno Se gliel'era due anni Gli era successo Un incidente Gli ho detto prima Mi fare Non si ricordava Quando era Mi fare Nell'83 Mi fare Il parere Non si sa Nel Lei evidentemente Ha detto Prima nell'82 Perché Nel fare il capitolato Il difensore Se ne curava Di 82 Il difensore Conta niente Ha mai parlato Questo signor Allegranti Il difensore Ha sentito Un'intervista Fatta La signora Allegranti Che si presenta Carabinieri Non ricordandosi Nemmeno Quando è stato L'omicidio E quel che è Andiamo un attimo Avanti ancora Io vorrei Siccome c'è il verbale Di quello che disse All'epoca Non aveva anche sbagliato Quello che l'ho scritto Io non mi ce ne ho Ma Simone mi sembra Molto puntuale Molto preciso Anche a me Anche a me Allora non c'è bisogno Di far commenti Non si ricorda nemmeno Io vorrei Arrivare alle telefonate Che ha avuto lui Quelle che ricorda oggi E quelle che ricordava Dieci anni fa E gli chieda queste cose Allora Una subito dopo Il funerale Poi Ogni tanto C'era delle telefonate C'era la Che gli ho detto prima Della magistratura C'era di quelle E altre telefonate Che era il mostro Insomma Che deve stare Ma io volevo Volevo Se mi dice le date Di Dio Non se ne parla nemmeno Perché Lei mi sa dire Oggi Quante telefonate In tutto ha ricevuto Arrivando a quella Dell'84 Dell'83 Anzi 84 A Rimini Ma dopo Rimini Ce ne state anche altre Ho capito Quelle non le ha denunciate Andiamo a quelle Subito dopo il faccio So Saranno Alle 15-20 telefonate 15-20 telefonate A distanza di? Alcune Le sono state A distanza Di alcuni Di alcune giorni Alcune Le sono state A distanza Di mesi Queste telefonate Queste telefonate 15-20 sono fra La notte Del funerale E l'84 Quando è andata A Rimini O anche Successive Anche tu Ho capito Quelle invece Fra La notte Del funerale E la volta Che ebbe la telefonata A Rimini In tutto Quante saranno state? Diverse La vicina 12 10? Dalle 10 alle 12 telefonate Tutte di notte Di giorno No Ci sono state Anche Di giorno Che magari Mi hanno cercato A casa Mi hanno cercato Sui posti di lavoro Io non c'ero più E poi mi hanno trovato Sempre la stessa persona? Sempre la stessa persona Ma lei non ha mai capito Chi è questa persona? Uno che ce l'ha con lei Un burlone Un A volte Legato a questi fatti L'ho potuto anche pensare Però Ma lei ha qualche annuito E le fare le burle Normalmente Le è mai capitato No Sento una cosa Però Io le contesto Che lei presentandosi Ai Carabinieri In questo 18 agosto Dell'84 Lei dice Glielo leggo testualmente Così vediamo Se diceva bene Allora Dice 84 ha detto Lei si presenta Glielo dico io Il 18 agosto Del 1984 Alle 11 Al comando Stazione di Rimini Ci sono il maresciallo Ravoni Dipendente Presente Allegranti Lorenzo Dovrebbe essere lei Nato a Vicchio Il 237 38 Residente a Montespetto Le via d'Antalighieri 14 Coniugato operaio Lei si presenta E dice Sul luogo Parla del fatto Ma ci veniamo dopo Dice sul luogo Ricordo Intervennero i carabinieri Di Montespetto E le disigna Per tale fatto Sono stato già interrogato Anche dal magistrato E qui Poi vediamo Cosa dice al magistrato Ma andiamo per ordine Perché parliamo prima Lei dice Inoltre Non essendo All'epoca Il primo caso Verificatosi Nei confronti Di coppiette Fu definita Anche dei giornali Il caso del mostro di Firenze Dice lei Dopo circa 8-10 giorni Dal mio intervento Mentre mi trovavo Nella sede Della Croce d'Oro Ricevevo una telefonata Da parte Di uno sconosciuto Voce alterata Alterata Dice lei Il quale Quindi Era alterata Non so cosa Serva a fare Confronti Il quale Presentandosi Come il mostro di Firenze Mi avvertiva Con la voce Stai attento Che la cosa Non finisce qui Poi chiudeva La comunicazione Poi fa Altra E siamo a due Telefonata Veniva ricevuta Dopo 20-25 giorni Dalla prima Questa volta In abitazione Più o meno Alla stessa ora Della precedente Circa alle 3 di notte Ed anche con questa Dopo essermi assicurato E stava parlando Con il signore Allegranti Di Montespetro Mi comunicava Sono il mostro di Firenze E' ora di farla finita A seguito Della seconda Telefonata Dice A seguito Della seconda Dice Mi recai Alla locale Comando Carabinieri Sporgendo regolare denuncia Da allora Non ho più Ricevuto Altre telefonate Allora Lei signor Allegranti Si presenta Ai Carabinieri Dice di avere ricevuto In tutto Nell'84 Due telefonate Una 8-10 giorni Dopo l'intervento Una 20-25 giorni Dopo la prima E poi di non averne ricevute altre Allora ci vuole spiegare oggi Perché parla di 10-12 E invece ai Carabinieri All'epoca dei fatti Parla di due Non parla di quelli Della notte stessa Poi aggiungo I Carabinieri Di Montesperto La notte stessa Non l'ha mai detto Scusi La notte Del funerale Del funerale Ho sbagliato io Il funerale si è fatto diversi giorni Lui Poi lo vediamo Dopodiché Signor Allegranti Io le faccio presente Che in una nota Dei Carabinieri Di Montespertoli Che io fornisco Alla corte Si dice Presso la stazione Di Montespertoli Ove l'aggregante L'aggregante Ha risieduto Sino al 10-387 Non è stata trovata Copia Della querela Per minacce Che il predetto Avrebbe presentato Al comando Nell'estate 82 È stata trovata Invece Copia della nota 27884 Carabinieri Di Rimini Che è quella Che io leggevo Allora Io le dico A Montespertoli Non c'è niente di scritto Eh si vede O lei O i carabinieri Però a Rimini c'è E si parla Lei Non solo Di due sole telefonate Non solo Che lei Non si ricorda Nemmeno Quando è avvenuto L'omicidio Ma che lei Dice lei Di aver ricevuto La telefonata Personalmente Alle 24 Come mai Oggi ci parla Di 12 telefonate Se al momento Dei fatti Parlava di due Come mai Ci dice Che una È la sera Del funerale E qui invece Dice dieci giorni dopo Come mai Qui dice Che la seconda È unica Unice due telefonate 8-9 giorni dopo Il fatto Non dopo il funerale Ma scusi Eh beh Faccio le contestazioni Unice di fare Bene Io ci dovevo chiedere In verbale Era loro Che me lo deve Affare Certo Allora io le chiedo Come mai Qui parla di sole Due telefonate Invece stamani Ci ha parlato Di 12 Lei Da allora Non ho più Ricevuto Altre telefonate Simili Qui c'è la sua firma Si è presentato Lei I carabinieri Di Rimini Non la conoscono Sì Ma no che Ci può essere stato Un errore Anche a scriverlo Che gli avvi detto Che io avevo ricevuto Due telefonate Ma Lei va a Montespetto E lo chiede E tutti gli dicono Come il minimo Che io 10 anni Non ci sto più E va a domandarlo Che io ho ricevuto E gli dicono Ma non lo sanno Nemmeno Diceva Tanto Questo Tutti lo sanno Sulla base del suo racconto Sì Anche a carabinieri L'ha raccontato Lei L'ha detto Lei di esserci Stato Sì Sì E poi dal giorno 18 agosto Mi trovo a Rimini Presso l'hotel Eden E il giorno 17 agosto Cioè il giorno dopo Verso le 18 e 45 18 e il giorno dopo 17 16-17 Ricevevo Presso l'hotel Eden E il giorno Scusi Dal giorno 16-8 16-8 dovrebbe essere agosto Sì Mi trovo in Rimini Presso l'hotel Eden E il giorno 17-8 Verso le 19 e 45 Ricevevo altra telefonata Sarebbe la terza nel suo racconto Con la quale dopo aver Ma Detto pronto Ecco Mi veniva detto Signor Eh? Va beh Ne ha ricevute due Ne ha ricevute dodici Lei ha detto due Negli unici documenti ufficiali No Io Gli ho detto prima Quante no Due Non dice L'ha detto lei Signor Potevano essere dodici Due no Ho capito Se c'è che la registrazione di due Qualche sbaglio da qualche parte Gli è venuto Comunque I Rimini O me fanno Comunque Il processo non lo dà a dire io Non lo dà a dire io Perché E viene detto Alcune In questa maniera Dio no Ha ragione perfettamente Senta ancora una cosa Io Quando sono arrivato sui posti Il fatto che era già avvenuto E le telefonate E le ho ricevute io Se poi Le sono state scritte In una maniera diversa E io Non mi sono accorto Pazienza Che vi posso dire A parte Poi la difesa Si riserve Documentare Perché avvengono Queste telefonate Perché i giornali Pubblicavano qualche cosa Che sto cercando Di recuperare E che Sì Ma capito Qui A parere del PM Ovviamente È inutile parlare di parere Era una burla Che facevano al signor Però è un parere del PM Che vale quanto La sua convinzione opposta Allora Vorrei ancora andare avanti Signor Sulla base di quelle produzioni Si vedrà Sera una burla Vedremo 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 E Lei non è che si ricorda Ora come mai Carabinieri Parlò solo di due telefonate Non lo ricordo Come mai Io E le dico Questo era qualcuno Che sapeva Io non ho visto Un inferbale Che ce l'ha scritto due Perché O come mai l'ha sottoscritto C'è la firma qui Sì sì Ma Capisce I carabinieri di Rimini Non sanno nulla Vabbè Ma prendiamo atto Di questa Di certità E basta Andiamo atto Se no Lui Sbaglia un numero Ma voglio dire Dunque ancora Una cosa Signor Allegranti Io vorrei invece Andare un attimo Al discorso Di quella notte Indipendentemente Dall'orario Vediamo Lei ricorda Che Quando arrivaste voi Come croce d'oro Sul posto C'erano Altre persone Lei mi sembra Abbia detto C'erano dei Dei curiosi Dei curiosi Diversi Diversi curiosi C'era la fila Delle macchine Quando arrivò Lei c'era Un sacco Di macchine Sì c'era Diversi Perché lei Mi sembra Dice Io non avevo D'asta Guardare Qui c'era Dice c'era delle macchine Io ero in mezzo Delle macchine Lei ricorda Se Queste persone Le dissero qualcosa Se erano Avevano già visto Chi c'era nella macchina Se avevano già Guardato Degno Giorni dopo Me l'hanno riferito Ma qui no Lei ricorda Lei è già stato chiesto Dall'avvocato Filastò Al di là di quelli Della Croce d'oro Chi erano queste persone Non se lo ricordo No Però Lei dice Quando arrivò C'erano file Di macchine Quasi Diverse macchine File Quante Quante Non glielo potrei dire Intorno alla macchina C'erano delle persone Sì Dai all'esterno Di queste persone Che erano intorno alla macchina Al di là dei ragazzi Quattordicenni O sedicenni Che l'hanno aiutato Ricorda se qualcuno Aiutò lei A tirare fuori il ragazzo No Come gli ho detto prima Io dico Desto Non me lo ricordo A me mi pare Da illudato A loro E A uno di quei Diederà a me La parte Delle gambe A lui E io Quell'avevo Della parte Delle spalle Ecco Io mi ricordo Che avevo messo Il faro Nella macchina No Che poi Rimase a in buio E il faro E ritornò Alla sede Dopo due o tre giorni Non so nemmeno Che la portare Ecco Allora Per completezza Signor Presidente Io Faccio presente Che negli atti Fatti all'epoca Dell'intervento Del PM E della PG A Vaccaiano Si dà atto E sono sentiti Direttamente E dal PM La bellezza Di Marini Graziano Bartalesi Concetta Di Lorenzo Mario Calamandrei Stefano Sieni Luca Tempestini Fabio Carletti Francesco Campatelli Rosanna Del Mastio Monica Tutte persone Che hanno visto La macchina Prima Dell'intervento Della Croce d'Oro E che Dicono cose Ora vediamo Sul punto Mi sembra sia Ci sono i verbali Relativi A cosa hanno visto Queste persone Ora io Sono persone Che sono state Sentite all'epoca Su fatti Apparentemente Ininfluenti Sulla ricostruzione Di questo processo Tutte 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 quelle che interessano Nel caso in cui interessino Si possono sentire tutte Ci sono i verbali La cosa si va a fondo Fino proprio Ando spazio Lo posso garantire Signore avvocato Filastò Questo nasce Perché tutte queste persone Dicono Come hanno Quelle che L'hanno visto In che posizione Era il ragazzo Siccome l'allegranti Dice in un certo modo Allora Sentiremo Sentiremo La ricostruzione Presidente Credo Che possa Partire No Bisogna dare Queste nominative Puglistero Glielo dati finora Io do i verbali No La registrazione Ma con questo C'è stata la discussione In paese Sì Di quelli che l'hanno visto Prima che gli erano davanti No No E io come l'ho trovato E glielo dico Perché Uno di fuori Con di quello che vuole Ma questi sono quelli Che hanno aiutato Lei Poi Se due diano in un modo E uno non dice Non terzo La verità si starà a vedere Ora sentiremo Se serve Io voglio dimostrare Ora sentiamo lui Bravo Vedendo le fotografie Presidente Si risolve Tutto il problema Vorrei però Che la Corte Per la ricostruzione Di questi fatti E delle domande Che io continuo a fare All'allegranti Tenesse presente una cosa Negli atti Forniti alla Corte C'è il verbale Di ispezione I luoghi Fatto dal PM PM dell'epoca E il verbale Ispezione I luoghi È stato Depositato Sì ma questa cosa È una domanda O è No È stata spiegata Da tanto Una spiegazione Alla cosa Ma allora Qui si sta facendo Le domande A un testimone Ho capito Ho capito E noi vogliamo accettare La verità E allora Allora Accertiamola Allora Presidente Siccome Le domande Si fanno le domande Non si fa Delle prearrinte Come diceva anche il giorno fa L'avvocato Purandai Presidente io vorrei Far presente che È un falso problema E ora Lo dimostro perché È un falso problema Il fatto che Se era davanti o di dietro Bastano le fotografie Abbiamo preso atto Perché il signor Alleganti L'ha detto Che lui ha visto il ragazzo Sul sedile posteriore È così che ha detto Lei Bene Io le dico L'ha tirato via dal sedile posteriore L'ha tirato via dal sedile posteriore Bene È stato sentito già all'epoca Io volevo Come dato di fatto Per la Corte Che ha già per valutare Questi elementi E per le domande E le contestazioni Che io faccio Vorrei che la Corte Tenesse presente E poi valuteremo a che fine Che il PM Che è sul luogo Dice Gli ufficiali Dpg presenti Riferiscono Che sul sedile Anteriore di guida In base a dichiarazioni Assunte in loco E ci sono tutte le dichiarazioni Io i nomi li ho fatti Solo A voce Comunque ci sono i verbali Da dichiarazioni assunte in loco Era adagiato Il corpo di un giovane Identificato In Mainardi Paolo Ricoverato tramite La Croce d'Oro Di Montespertoli Presso l'ospedale Di Empoli In condizioni disperate Cioè C'è un atto In cui il PM Dice Era davanti Sulla base Delle persone Che sono state Sentite da me Sui fatti Al momento dei fatti E sono le due Del 20 giugno La notte Io Se necessario Quando dovremmo Chiedere Di sentire persone Su questi fatti Io chiedo addirittura Di sentire il PM Ma secondo me Ripeto È superfluo Vorrei che ci spiegasse Allora Fatta questa premessa Il perché io vado avanti Sul punto Che ci spiegasse meglio Signora Alleganti Come si ricorda lei Che era questo ragazzo Che ci spiegasse bene Come era questo sedile Da che parte L'ha tirato fuori lei Perché il PM Quando lei fu sentito Le contesta Che gli altri Dicono diversi Ma questo è un'altra cosa Sì Vero? È vero Benissimo Io Anche Le contrasti C'erano anche Quando si deve Affirmare Il passeggero Ci sono entrato Dretto Ha mandato su Il seggiolino Ha mandato su Il seggiolino Cosa vuol dire? Il passeggero E sono andato Di dietro Il seggiolino Del passeggero Il passeggero Ha mandato su Il seggiolino Ci spieghi Cosa vuol dire su? Per passare Mi sto Come si dice in italiano Non lo so Me lo dica lei Non lo so No Cosa vuol dire lei? Cosa vuol dire lei? Come si sta spiegando? Cosa vuol dire Io voglio dire Che sono arrivato Va bene E ho tirato su Il seggiolino Che era In posizione Normale Di quando si Viaggia Ho tirato su Sui davanti Oh Era Scusi Era a 90 gradi Cioè era eretto Sì Bene E l'ha tirato Verso il parabrezza L'ho tirato verso Il parabrezza L'ho tirato avanti Bene E così Verso il parabrezza Ma sono entrato dritto E ho trovato Antonella Prima Che era così Con le mani sulle gambe Così Che sono accurato E che Vorrei essere desiato Che il testimone Mette le mani sulle ginocchia E appogge la testa Alla spalliera Della sedia Va bene L'ha detto lei Già verbalizzata Questa è la ragazza Sì È la ragazza Poi L'autatazione Che è morta Passa a quell'altro C'era Paolino Che Rantolato Lei è sempre Scusi Dalla parte Del passeggero O ha fatto il giro Della macchina No Sempre Dalla parte Sono passato così Dai ginocchi Della signorina Antonella Quindi lei è dentro Io sono drento E sono andato A lui Che L'ho trovato Non mi ricordo Con la faccia Esterna O con la faccia interna Questo glielo ho detto prima Non me lo ricordo E bisogna vedere Dove era Perché Quello si può vedere Scientificamente Dove dall'altera E ci risposava sopra E quindi se la tappava Sennò Sarebbe bene Stato di sanguato E quindi Se la tappava Così Provisione A sé Appena tu va A muoverla Quindi lui La testa L'aveva Se non ho capito male Vicino al corpo Della ragazza No L'aveva Tra L'uscita Della macchina E l'esterno Proprio ad esterno Tra La lamiera E sul seggiorino Sotto il seggiorino davanti Le gambe Le aveva verso Il seggiorino davanti Sotto E la testa Indietro Cioè le gambe Erano sotto Sotto al seggiorino Benissimo Della guida Bene Il seggiorino Davanti Invece Come era messo Lo ricorda lei Normale Normale cioè No Il seduto Normale È come quando uno va a guidare Lo spostato Verticale Verticale Lei l'ha spostato come? In avanti Erano cioè i due seggiolini Nella stessa identica posizione Sia quello del ragazzo Che quello della ragazza Sì E lei entrambi li ha spostati Verso il parabrezza Ecco Ecco E Le faccio una domanda I due seggiolini O uno dei due Non ha avuto L'impressione Che fosse Reclinati Verso il dietro Per casa Non è che Avessero Uno dei due O entrambi Buttato giù il seggiolino Lo schienale Come in quelle macchie No No Lei non ha avuto Quest'impressione Vogliamo mostrare le foto 12 e 13 Del Del Sopralluogo Questo serve per poi anche Sentire eventualmente Gli altri testi Che dicono come stavano le cose C'è il tuo testimone Lui Dici Non mi stavano Sì Per bacco Sono Secondo me c'è una spiegazione Basta vedere le foto E capiamo tutto Ma lo facciamo commenti Per cortesia Perché danno noia I commenti Sì Ha ragione Presidente Ora se verbalizza Quelli che dice lui Poi Lo rifieremo Con l'altro Con gli altri Lo vede bene? Andiamo in grandiera Quasi Ci sono le macchie di sale Lo vede? Non so può guardare dietro a lei Grazie Presidente Lì non si vede i colori Ma quel seggiolino È pieno di sangue Nella parte Si vede la macchia Si vede la macchia Benissimo Nella parte dello schienale Almeno io la vedo qui Bene Si vede come vestigatura anche Era così Quando l'ha trovato lei Ragazzi Era così Era su quel seggiolino lì Io mi ci sono asciugato Anche le mani Si è asciugato le mani a cosa? Il seggiolino Vede però che il seggiolino È almeno apparentemente Quello di guida È reclinato verso il dietro Lo vede? Si si lo vedo Vogliamo vedere l'altra foto Parla al microfono Parla al microfono Guarda al microfono Si si lo vedo Vogliamo vedere l'altra foto Per me era normale Quella successiva del seggiolino Scusi Deve parlare al microfono Perché se no Dopo non vi è nulla Guarda Guarda lì Così si vede bene Che è appena Leggera inclinazione La definirei Di una ventina di gradi Vogliamo vedere Se ci sono altre foto Del seggiolino Comunque Ma teniamo quella fotografia là Che si vede piuttosto bene In parallelo con l'altra Che l'inclinazione Si c'è Ma una lieve inclinazione Di una ventina di gradi Massimo Sta cercando Se c'è una fotografia migliore Forse no Se mette l'altra Per calcolare ci vuole L'equiparazione con l'altro sedile E quella ci sono Questo per esempio Falsa la prospettiva No perché c'è accanto L'altro sedile No ma è come La prospettiva della fotografia È diversa rispetto a Senta Signor Legrandi Vediamo se ricorda lei Poi sentiremo gli altri testi Che dicono in un altro modo Ma non ha importanza Lei ricorda dove si asciugò Lei ha detto Mi ci asciugai io Le mani Il seggiolino Lo vuol vedere Il microfono Signor Allegrandi Guarda Mi è cortesia Le parlavo al microfono Il seggiolino Si ricorda se era sullo schienale Sul piano Comunque lei Io Si asciugò le mani Al seggiolino Dove era il ragazzo Ora se Quello Gli era il ragazzo Se gli dico Gli era lì dietro Bisogna E me le fosse asciugate Sui dietro Infatti il dietro è pulito E il davanti È macchiato No Bisognava Che me le fosse Se gli era lui Gli era Paolo Bisognava Me le fosse asciugate Sui dietro Ma a me Mi rimaneva comodo Sui davanti Ho capito Perché Perché lui Schizzava fuori sangue Schizzava così E lei Quando la presi Qui al collo E mi rimaste le freme Del sangue Ricorda questo sangue Da che parte Lo schizzava Rispetto alla posizione In cui si trovava Il ragazzo Lo schizzava Verso dove era lei Verso la ragazza O verso l'esterno Non me lo ricordo Che l'ho detto prima Cioè non si ricorda Se era a destra o a sinistra Quello lo vedremo Dalle ferite Ti ho detto Si può sapere A dove era La parte L'arteria Che era spaccata Se era quella di sinistra O quella di destra Io ho detto Che c'era Cascato sopra E quindi Se l'era tappata Se no si sarebbe trovato Già disacmato No Appena lei Lo mosse Ci fu questo schizzo di sangue Di ABC Signor Allegrante Sì Ecco Questo schizzo di sangue Fu molto forte Che macchiò la zona circostante O macchiò solo lei Se lo ricorda Sa Giava di buio No E come gli ho detto prima La lampadina L'aveva sparita Chi l'aveva presa Non lo so L'ha detto Una canse E basta Quindi quest'operazione Lei dice La fece un po' al buio Sì mi buio Ho capito Ecco A questo proposito Io faccio Presente Lei ricorda che Il PM le contestava A queste cose Che ha detto Che gli altri Avevano detto Che era davanti Io le contestavo Anche E lei gli diceva No io l'ho visto Ecco Gli altri Lei conosce tale Di Lorenzo Mario Di Di Lorenzo Mario Non mi viene in mente Chi può essere Questo signore Dice Il 22 Viene sentito insieme a lei E' una delle persone Per cui il PM Possiamo leggere Quelli che ha detto il testo No no Presidente Fa la domanda Sì La domanda Faccio la domanda La mia domanda era Se lo conosceva Così Questo Lei non sa chi è No Bene Lei sa Altra persona Allora io Di Lorenzo Mario Chiedo ovviamente Se necessario Ma lo ritengo Su quello Sulla base della foto Che sia sentito L'altra persona Carletti Che dice il contrario Di quello che dice lei E il PM Glielo contestava Carletti Francesco Le dice qualcosa Questo Carletti Dovrebbe essere di Baccaliano Però Io lo conosco di vista Ecco Se è questo Che lo dico io Carletti lo so Ma del nome non lo so Se si chiama A questa maniera Capito Domanda al pubblico ministero Si tanto per sapere Visto che questi atti La difesa non li conosce Non li conosce Per sua Certo Perché Ancora Non sono diventato Un topo Di Di Uffici Dove 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 Annegale Migliaia Le carte Ci vorrebbe C'è tanta Di indici Comunque Vabbè E volevo sapere Questo Se me lo vuol dire Che io rispondo Queste due persone Sono fra quelli Che intervenono Sieme al signor Allegrano No Sono addirittura Intervenuti Prima da soli E poi con il signor Allegrano Così dicono loro Però non sono fra quelli Della Croce d'Oro No Non sono quelli Della Croce d'Oro Allora io gli posso E me invirti No Appunto Sono loro E presumibilmente Sono quelle persone Che erano intorno E si sono presentate Ce n'erano tanti Ce n'erano tanti Ce n'era tanta Gente intorno Prima di lei E questo Che le voglio chiedere Chi sono Io Se Se glielo ho detto O non me lo ricordo A quando Sono partito Io Sono arrivato lì Ho trovato il fatto lì Ma Ieri ho partito Con l'eccezione Di essere Andato Su una resta De conti Roba di genere No Chiarissimi Perché a me Mi dice C'è stata Una resta De conti Una spalatoria Ma intorno a questa macchina Fisicamente Quante Lei ha detto Ho visto tante macchine Io le chiedo Di persone Quante ne può aver viste Giovani Ragazzi Ragazzi Tutti questi Che dicono Erano lì intorno Io li ho elencati E ora li rielenco tutti Sono sia uomini Che donne Sì Sì ma C'è anche gente Che magari Possono essere Nemmeno elencati No Questi sono quelli Gente Che viaggiavano Sono arrivati No no Questi sono quelli Che dicono Cosa hanno fatto Ci sono tutti Verbali Io le chiedo Se quelle Io so Che mi è stato raccontato Quei due Che hanno telefonato Quei due ragazzi Con il motorino Che hanno visto Uno davanti Con le mani Sui volanti Ci sa dire Chi sono questi Ragazzi No Gli conosco Che a me Mi è stato riferito E quando sono tornati Non c'erano più Quindi c'era tanta Cioè a lei Hanno riferito Ce lo riracconti Che c'era uno Con le mani Sul volante Sul volante Così no E quindi E sono andati Al telefono pubblico E hanno telefonato Quando sono tornati Sul posto Non c'era più Quello lì Magliera di diretto No Ho capito Ma sono così Tiacere i paesi Io lo so No presidente Sai Questo Chi è questo signore Perché questo è molto interessante Che qualcuno Con le mani Sul volante C'era di figuro Perché se no La macchina Ma c'era Il mainardi Via Basta vedere le fotografie Ma come c'è Lei è troppo C'è Tre colpi A dove erano E sette colpi O sei Dalla parte Di qua Si fanno l'amore Non stanno Uno sul sedile Davanti E uno sul sedile Di dietro Ha capito Il pubblico Ministero Ma il sedile Che succede normalmente Quando io voglio Fare l'amore Si mettono Sullo stesso sedile Scusi Signor Questa persona Nota con cui i carabinieri Hanno rimesso insieme Su mia richiesta Tutti gli atti relativi a quei giorni È per esclusiva comodità Io qui ci sono addirittura Gli indirizzi Ne faccio copia Per il difensore E facendo presente Che sono gli atti Rimessi insieme Dai carabinieri Gli originali Bisogna fare Il lavoro Che dice giustamente L'avvocato Dopo biblioteca Ma andiamo a cercare Gli originali Ma qui ci sono Addirittura gli indirizzi E le dichiarazioni Di quello che hanno Deposto Addirittura Al PM All'epoca E quindi Più ci sono Le deposizioni Ovviamente Dell'allegranti Di cui ho parlato E la deposizione Di allegranti Al PM All'epoca Che è sostanzialmente Devo dire la verità Nonostante le contestazioni Il PM Analoga A parte gli orari A quello che dice oggi Si ha visto Tranne Allora Tutti questi atti Io li metto a disposizione Della Corte E del difensore Vedrà poi la Corte Quali sono le persone Se è necessario Citarle Io a questo proposito Dico Secondo Se Il parere del PM Non è necessario Sentirle Se è necessario Sentirle E qualcuno Indico Di Lorenzo E Carletti Che sono I due Che hanno Espressamente Parlato Di aver spostato Il corpo E nei modi Che abbiamo detto E che il ragazzo Era sul sedile Anteriore E nel caso Fosse necessario Anche il PM Che dà atto Che alle due L'accertamento Che lui Ha fatto Il ragazzo È sul sedile Anteriore Per quanto riguarda L'istanza Del difensore Di far sentire La voce Del vanni All'allegranti Direi Che è assolutamente Non pertinente All'accertamento Che dobbiamo fare Inutile E comunque Io sono contrario I mezzi Sono a disposizione Se lo vogliono fare Presidente Sulla istanza Di far sentire La voce Del vanni Io insisto E spiego Anche perché Come documenterò Alla corte In epoca Successiva Ma Fin da ora Lo si può dire Perché si tratta Di materiale Giornalistico La ragione Per cui Secondo Questo difensore Questo signore Venne perseguitato Per diverso tempo Consiste In un Espediente Esperimento Intelligentissimo Fatto All'epoca Dalla dottoressa Della Monica La quale D'accordo Con alcuni giornalisti E se necessario Sentiremo anche giornalisti E forse La dottoressa Della Monica Fece pubblicare Che il giovanotto Trovato vivente Durante il trasporto In ospedale Aveva parlato Dicendo qualcosa Ora Questa persona Che telefona Signora Allegrante Dominaccia Per questo motivo Vuole sapere Cosa ha detto Questo ragazzo E soprattutto Vuole che non Stia zitto Su quello che ha detto Per questo Dominaccio Con questa esistenza Secondo me Attendibilmente Secondo me Attendibilmente Ora Ora Quindi Che questa Persona Che telefona Signora Signora Allegrante Abbia a che fare Con questo delitto A me sembra Abbastanza Probabile Anzi Molto probabile Estremamente probabile Un burlone Che telefona Alle due Di notte Per tutte le volte Che ha telefonato Uno che vuole fare Uno scherzo Signora Allegrante In una situazione Così Tragica Non ce lo vedo Affatto Un giornalista Che vuole avere Delle informazioni Con questi sistemi Con questi mezzi Alle due di notte Telefonando Con questa Reterazione Cercandolo E minacciandolo Due anni dopo In una pensione Di limini Non ce lo vedo Assolutamente Quindi È una situazione Per la quale Io credo Che sia una circostanza Che va Approfondita Portata Fino in fondo Allora Siccome Qui c'è un imputato Uno l'ha già detto Pietro Pacciani La voce Pietro Pacciani Non è Vediamo se per caso È una voce Il signor Vanni Ora Siccome Se faccio Di qualcosa A signor Vanni In questo momento Al microfono La voce Non è quella Di un telefono Di là C'è un telefono Il pubblico ministero Ha già detto Che nonostante L'opposizione Il telefonino Mi non presta Io non posso Perché sono l'unico Avvocato d'Italia Senza telefonino Non posso fornire il mio A questo punto Prende il telefonino Del pubblico ministero Il signor Allegranti Sta di là Sente questa voce Dice un paio di battute Pronto Il signor Allegranti Come sta Quello che vuole Le descrivo la battuta Si può far sentire la voce La voce Si può far sentire la voce Se richiede E il signor Allegranti Senta la voce Senta la voce Oppure No Prima cosa Presidente Non ho finito Abbia pazienza Però non è finito Anche l'esame Con riferimento ai testi Io non ho altre domande A fare a questo punto Con riferimento ai testimoni Di riferimento Che sono emersi Dalle posizioni Del signor Allegranti Siccome c'è una sentenza Della Cassazione Che dice Che a scanso Di una sorta De carezza Non sono d'accordo Con questa giurisprudenza Ma esiste Devo far distanza Subito Io Prima di tutto Sono d'accordo Perché quei testimoni Indicati dal pubblico ministero Vengano sentiti Anche per le due persone Di cui ha riferito Il pubblico ministero Per le somme Capi Di posizioni Questa è una circostanza Molto importante Che va approfondita Fino in fondo Ma soprattutto Chiedo Che vengano sentiti I testimoni Ciappi Non medio identificato Previa Opportuna Identificazione Attraverso anche gli altri Polizia giudiziaria E il signor Martini Marco Nonché quel terzo Giovanotto Venga identificato Alla polizia giudiziaria E sentito Che partecipò Insieme al signor Allegrani A questa Operazione Di Soccorso Gli altri Difensori Su questo istante A sentire Quei persone Che sono intervenute Comunque Sul posto Sei d'accordo? Bene No 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 Ora Poi proseguiamo Avvocato Sanobini Avvocato Bertini Va bene? Bene Allora Prego Avvocato Colau Scusi O brasiliana O brasiliana Del povero Del povero E compianto Ma inanti Paolo E prima Se non erro Ha fatto questo gesto Valla di la sinistra No mi scusi Sto domandando Lei Allora Non si ricorda Se lo tampono A sinistra O lo tampono A destra Del povero No io non me lo ricordo Adesso Non lo ha preso mai Grazie Presidente Scusa però Volevo fare una precisazione Anch'io Poiché I cognati Di Paolo Mainardi Sono ancora Il giorno successivo Andarono Perché Convocato A vedere La macchina Andarono Allora D'iniziativa Allora Insomma Sì Da fare Per Vedere La macchina Per L'informazione E quindi Loro Che sono I signori Ulibelli Giuliano E benvenuti Ettore Sarebbero in grado Di dire Alcune circostanze Importanti Riguardo All'ubicazione Delle macchie Di sangue Rispetto Allo Sportello Anteriore Sinistro Dove erano Ubicate Queste Grosse Grosse macchie Di sangue Ci sono Le foto 13 Che sono Sul sedile Anteriore Insomma Inutile Volevo dire Visto che erano Anteriori O posteriore Si vede Si vede dalla Fosa Uno Quei due Giovani Arrivati Che poi Per primi Sarebbero De ragazzi Uno è Stefano Calamandrei E un altro Eppoggiarelli Adriano Certo Con tutte le riserve Ci sono i verbali Eh Presidente Dell'epoca Di questi signori Con tutte le riserve Del caso Quindi se voi Volevi Dicare Nei verbali Che deposito Io ci sono Tutte le dichiarazioni Rese Da queste persone All'epoca Stefano Calamandrepo Gerelli Adriano Se poi volete Io vi offro La testimonianza Dei cognati Per individuare Esattamente Il punto Se vi volete Ammettere Fate voi Senta Va bene Ora A questo punto Quanto per la cosa Lei signor Maregretti Allegranti Allegranti Scusi E' città La prima volta Si è visto Senta Lei che ha detto È stato male Ha avuto un incidente Nel quando L'84 È stata in coma Io ho noto una cosa Lei tende a difendere La deposizione Che ha fatto oggi Perché lei ha tutto Il suo diritto Di difendere cosa vuole Però Io non ho cercato Nessuno Io non difende Proprio nulla Questo testimone Ha riferito Determinare Io non ho cercato Nessuno Voglio capire una cosa Voglio capire una cosa Al testo Perché io devo cercare Lei vuole una certa versione A me invece Interessa che La testa Sia attendibile Allora come mai Lei Da una parte Difende Quelli che ha detto oggi E dall'altra Dice Ma io mi richiamo Ai verbali A suo tempo Eccetera Ma non ha mai detto Una cosa del genere Ha detto questo in aula E questo No ma no Non l'ha detto assolutamente E lei stessa Allora non ricorda bene Le cose oggi Se lei dice Ritengo Buoni I verbali Fatto Subito dopo Il fatto Eccetera Eccetera Se lei dice L'espressione di questo tipo Vuol dire che Allora oggi Non ricorda più bene Voglio sapere io Alcune cose Non me le posso ricordare Di certo Come allora Il tempo Mi è passato L'ho detto prima Ma sa Che persona Io Particolar modo Tenevo fede Senta Lei saprebbe riconoscere La voce Di quella persona Che gli ha parlato Penso di sì Se la ricorda bene Come l'ha fatto Come l'ha fatto Si sentirà Il tono della voce Poi Allora Come si esprime Anche le parole stesse Senta Vanni Vanni Per cortesia Mi vuole dire qualche cosa A me ora Parli Parli A quel che vuole Perché parli Signor Presidente Lascio il suo discorso Parli Parli Senta Signor Presidente Ecco Bravo Due anni sono in carcere Sono inocente Le operazioni D'affanno La mia madre Le ha immarcatute La scantella Non può finire Nemmeno a vedermi Finché Io la sento Non ne posso più Se la mi fa Questa gentilezza Non è Ormai Lo sa Stiamo Va bene E questo Bravo Bravo Il convento Passa Basta Basta È sufficiente Lei Allora Senta Quella voce È una voce Diversa Da quella Che parlò La persona Che le ha fatte Le minacce Per telefono È così La voce Ha sentita ora Quella nel vanni È diversa Da quella Che Fece le minacce Per telefono Sì Questo dice Sì Allora Sospendiamo Dieci minuti Se non ci sono altre domande Nessuna domanda Che Volevo far presente Che nel verificare Il fascicolo Del Fatto Accaduto A Baccaiano Non c'è Il verbale Dispezione Della monaca Come no L'ho depositato io No Non c'è Non c'è Non ce l'abbiamo Non c'è Anche io mi ricordavo Che esiste A me sembrava Però Ecco Allora Se faccio Un'altra fotocopia Sì Quindi può darsi Se sia fuori posto Non fuori posto Non lo so Non è una fotocopia Non vorrei No Non era No Faccio una fotocopia Se tengo la fotocopia Sì Bene Faccio Subito perché ci serve Poi per Sembrava che ci fosse Può entrare All'altro test Come si chiama Illuminato Dottor Canno Nocentini Allora Allora Grazie.